Un cordiale saluto da Andrea Biagioni di Florence Multimedia per gli aggiornamenti sulla viabilità in Toscana. Sulla variante del Valico per incidente 7 km di coda tra Firenzuola e il Bivio con la Panoramica verso Bologna. Code a tratti per traffico intenso tra il Bivio con la Panoramica e Aglio verso Roma. Sempre sulla 1 code a tratti tra Arezzo e Firenze Sud e tra Firenze Scandicce e il Bivio con la variante in direzione Bologna e tra Aglio e Calenzano Sesto Fiorentino verso Roma. Stessa situazione anche in A11 con Code a tratti tra la diramazione Lucca Viareggio e Massarosa verso Viareggio. In A12 Code a tratti tra la diramazione per Livorno e l'allacciamento con la 15 in direzione Genova e tra l'allacciamento con la 15 Carrara in direzione Livorno. Segnalare Code anche alla barriera di Rosignano in direzione Rosignano. In Fipili per lavori un chilometro di coda tra Ginestra Fiorentina e la Strassigna verso Firenze. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!